Nel surreale quanto insolito scenario deserto del polisportivo per l'occasione chiuso su decisione del giudice sportivo dopo i fatti post Teramo, la Civitanovesi ritrova dopo due mesi il successo, battendo seppur a fatica al termine di una gara opaca di emozioni il Fossombrone. Al di là della prestazione di certo non esaltante, tre punti d'oro per la formazione di Gabriele Morganti che centra la sua prima vittoria da quando siede sulla panchina rosso-blu. Civitanovese reduce dal bompari di San Benedetto con Morganti costretto a ridisegnare al via il proprio assetto per le numerose defezioni. Racchini squalificato, Buonaventura, Cucco e Forani out per infortunio, oltre al neacquisto arrivato in settimana o sei ancora non disponibile. Sull'altro versante invece Baldarelli, tecnico degli ospiti, può contare su tutta la rosa a sua disposizione e è costretto a fare risultato per conto di una classifica deficitaria ad arbitrare il terramano Di Martino. Ma andiamo con la cronaca di un match che ha regalato ben poche emozioni. Pronti via e la Civitanovese è subito in vantaggio. Fallo netto in area di rigore di Vitali ai danni di Tidei, rigore che Lazzarini da dischetto implacabilmente trasformava spiazzando il portiere sollitto. Al trentesimo su corner si fanno vivi gli ospiti con un colpo di testa di Savini che impegnava annunziata la parata a terra. Era il preludio al gol che arrivava due minuti più tardi, esattamente al trentaduesimo con Vitali che ben appostato raccoglieva una sponda aerea di Donzelli e in diagonale ad incrociare batteva annunziata per il momentaneo pareggio ospite. Si va nella ripresa e il fossombrone è subito minaccioso al terzo Carbonari da buona posizione servito dal lovascio sparava alto sciupando una buona occasione. La gara non offriva nulla di buono e al trentacinquesimo si sbloccava in favore della Civitanovese con un tiro di mandorino dai venti metri. Era colossale però la papera di sollitto che praticamente deviava il tiro del giocatore rosso-blu nella propria porta portando così in vantaggio la formazione rosso-blu. Nei minuti finali il fossombrone era tutto rivolto in avanti ma il risultato non cambiava con la Civitanovese che così può esultare per una vittoria davvero preziosa per il proseguo del campionato e non solo. Gabriele Morganti allenatore della Civitanovese dopo tre pareggi consecutivi la prima vittoria sulla panchina della Civitanovese, vittoria diciamo ostentata però molto molto importante. Sì devo dire che erano partiti molto bene e poi nell'ultima mezz'ora del primo tempo loro ci hanno preso sopra a vento, ci hanno preso sempre in velocità, ci hanno pareggiato e abbiamo rischiato secondo me di prendere altri due o tre gol. Quindi il primo tempo molto male. Poi ci siamo un po' ricompattati, ci siamo rimessi nel modulo che in questo momento conosciamo meglio e piano piano siamo cresciuti fino a far noi la partita e c'è andata bene. Però devo dire che avevo tanta gente che non poteva finire la partita, è stata veramente una vittoria di cuore, col cuore e questo è un grande segno. Una vittoria che potrebbe aprire scenari diversi per questo giocatore? Ma guarda io l'ho detto quando sono venuto, per me questa è una buona squadra che deve crescere domenica per domenica, è chiaro che in questo momento stiamo subendo tante defezioni oppure anche chi gioca non potrebbe neanche giocare, però l'importante è che vi è dato continuità e veramente oggi il primo tempo siamo stati bravi a finire uno a uno. Ecco mister, quando è imbancato il pubblico oggi in questa gara giocata a porte chiose purtroppo? Ma guarda è una sensazione che non si può descrivere perché non si può spiegare cosa uno prova quando non c'è nulla. Francesco Baldarelli tecnico del Fossombrone, Fossombrone che esce sconfitto da questa partita, forse i suoi avrebbero meritato qualcosina in più visto l'andamento della gara, è d'accordo mister? Sì, sono completamente d'accordo, anche oggi siamo a ripetere le stesse cose, un'ottima prestazione, abbiamo magari un po' sofferto l'approccio alla gara ai primi minuti, di fatti abbiamo preso il gol regolarmente, poi da quel momento lì, ottima, ultima mezz'ora del primo tempo da parte dei nostri, è nato il nostro pareggio, potevamo anche raddoppiare, secondo me è venuto delle occasioni importanti. Il secondo tempo lo sapevamo che la Civitanoese sarebbe partita forte, avrebbe fatto di tutto per prendere il risultato, ma non abbiamo concesso granché, poi è uscito fuori, vabbè ci sta un errore tecnico di un mio giocatore, lì non possiamo dire niente, però la prestazione ancora una volta c'è, purtroppo siamo a ripeterci, ripeto, le stesse cose, i punti non arrivano, però la gara c'è. Proviamo a giocare a calcio su tutti i campi, quindi anche oggi abbiamo, secondo me, fatto un buon calcio, una buona partita, stiamo crescendo sotto il punto di vista del gioco, anche un po' di essere un po' più cinici, quello che a volte ci manca, oggi è mancata un po' di fortuna.